Basta con il mare che sembra una cloaca, da settimane a Salerno si susseguono le proteste e le segnalazioni di bagnanti, turisti e gestori balneari per le pessime condizioni del litorale. In questi giorni la mobilitazione ha fatto un salto di qualità, con una raccolta firme lanciata da alcuni residenti e banchetti allestiti presso gli stabilimenti della costa cittadina. Io, essendo una mamma prima che una cittadina, voglio e pretendo che mia figlia faccia il bagno in acque pulite e non melmose, schifose, dove non so neanche cosa ci sia dentro. Mi dispiace che questo mare non è più quello di una volta, non lo so le responsabilità di chi sono, a chi appartengo, so soltanto che come tutte le cose al problema ci dovrebbe essere la soluzione o risoluzione. A supportare l'iniziativa anche il consigliere comunale provinciale Dante Santoro che ribadisce la necessità di una svolta sul fronte mare. Questa è una città di mare che non può vergognarsi del proprio fronte mare. Abbiamo fatto istanze, abbiamo chiesto di avere finalmente adeguamenti della rete fognaria, controlli seri sul fiume Irno, sui torrenti dove c'è chi inquina anche per mestiere, ma i controlli non si fanno in maniera seria ed efficace. Allora ho chiesto un moto popolare che si attivasse, la risposta è stata grande, ci vuole il dissenso dei salernitani per avere interventi veri e seri di chi ci governa.